E' un sistema all'avanguardia realizzato con le tecnologie più avanzate nel settore, il percorso per non vedenti che è entrato in funzione all'Università della Calabria e il risultato di una felice sinergia che l'Ateneo ha avviato con l'Unione Italiana Cechi. Si tratta di una pavimentazione denominata Vettore, con queste onde che vediamo qui nella Romagna, più abbinata a un altro sistema elettronico denominato Sesamonet e un bastone elettronico che cammina su questo percorso manda degli impulsi in frequenza Bluetooth a un cellulare e il cellulare porta in voce l'informazione già precedentemente registrata. Quindi il non vedente che cammina su questo percorso ogni 60 centimetri può ricevere un'informazione in voce di quello che lo circonda. Questa è la tecnologia che abbiamo portato qui oggi a Cosenza. E' così anche chi non vede alla possibilità di muoversi in sicurezza e raggiungere magari l'autobus più vicino. Il tracciato iniziale è lungo circa un chilometro e mezzo ma sarà presto esteso. Il percorso collega diverse strutture dell'università come la segreteria studenti, l'aula magna, il centro linguistico, la mensa, la biblioteca e la banca. Riteniamo che sia importante mandare questo messaggio proprio dalla Calabria, una regione che ha certamente problemi economici notevoli, ma che sa investire anche per rendere più facile la vita di coloro che sono portatori di handicap. Ricordare infine che da tante altre università italiane molti portatori di handicap si stanno trasferendo da noi proprio perché apprezzano la qualità dei servizi che noi offriamo. Noi ne facciamo un punto di civiltà, un punto anche di orgoglio per la nostra regione, volendo dimostrare che in Calabria si possono fare cose che anche altri non sono in grado di fare.